buongiorno e benvenuti al nuovo face to face di simplybeats oggi abbiamo qui con noi premia finance nello specifico l'amministratore Gaetano Nardo buongiorno buongiorno Flavio grazie dell'invito grazie a te e di essere con noi e Girono Orlando grazie di essere con noi buongiorno a tutti grazie a voi allora oggi parliamo di premia finance iniziamo con te Gaetano gli ultimi anni due anni sono stati due anni molto importanti per premia soprattutto due anni poi in realtà connotati anche dalla pandemia insomma non due anni semplici però nello specifico due due anni importanti per voi soprattutto il 2021 come è andato sotto l'aspetto diciamo della produzione e dei prodotti sì sì Flavio allora 2021 diciamo che è stato un anno ancora pieni di record per premia per premia finance lato produzione abbiamo incrementato la produzione si è attestata a un più 20% rispetto all'anno prima e anche la rete è cresciuta più o meno del 20 25% quindi diciamo è stato un ottimo 2021 ci possiamo ritenere molto soddisfatti ma è stato anche un anno che sicuramente ricorderete perché è stato l'anno della votazione in borsa sì 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 diciamo che questo è stato il il passo che abbiamo voluto fare durante il 2021 è un percorso di crescita come diciamo dico sempre nelle varie interviste che faccio un percorso di crescita e abbiamo deciso di intraprendere questo percorso di crescita che a nostro avviso diciamo porta la società a essere sicuramente valorizzata nel giusto modo ma soprattutto la borsa oggi è sinonimo di trasparenza è sinonimo di conti in regola e anche di vigilanza assolutamente sì è anche sinonimo di come dire no potenzialmente reperire quegli investimenti che servono in un mercato sempre più competitivo come quello della mediazione creditizia quindi come dicevamo per reperire quegli investimenti necessari a crescere investimenti che sappiamo abbiamo avuto notizie proprio in questi giorni potranno aumentare o meglio reperire denari per investire potranno aumentare questi denari grazie alla votazione sull'euro next sì allora faccio un passo indietro nel 2021 premia si quota in un segmento che si chiamava aim pro adesso euro next pro è un segmento rivolto a soggetti istituzionali e professionali e quindi siamo partiti diciamo dal gradino più basso no e quest'anno professionali intendiamo quindi fondi sì certo o anche investitori professionali c'è l'investitore professionale e anche la persona fisica che viene riconosciuta diciamo dalla propria banca come investitore professionale quest'anno cioè proprio in questi giorni abbiamo fatto richiesta a borsa per passare al segmento successivo che oggi prende il nome di euro next qual è la differenza sostanziale e i vantaggi che avremmo passando in questo segmento principalmente volevo anche dire che nel passaggio abbiamo avuto diciamo quasi il 75 per cento dei warrant che sono stati sottoscritti questo vuol dire che gli investitori che hanno creduto nel progetto di premia nel primo passaggio hanno continuato a credere nel nostro nella nostra crescita e nel 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 nostro diciamo eh piano di crescita piano piano industriale e poi diciamo la particolarità è che è questo mercato più liquido è un mercato dove possono investire non solo eh fondi eh o piuttosto istituzionali o ma possono investire anche il piccolo risparmiatore no bene il piano di sviluppo quindi ha le basi solide ma quale sarà questo piano di sviluppo per questo fine anno e per il prossimo che verrà allora ehm intanto mi volevo precisare che eh quest'inizio anno continuiamo a crescere eh cresciamo nel primo trimestre circa a spanne del 15 per cento e quindi diciamo siamo contenti di 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 come sta andando anche quest'anno piani di sviluppo per il eh duemila e ventidue allora cresceremo come da business plan cresceremo e continuiamo a crescere e per linee esterne e per linee interne e chiaramente per linee interne poi lascerò la parola al nostro direttore rete ci spiegherà quelli che saranno le strategie eh per quest'anno e anche per l'anno per gli anni a seguire eh per quanto riguarda eh linee esterne eh come dicevamo poc'anzi eh la borsa diciamo eh eh come dire ci ci impone fra virgolette eh una crescita costante e continua e quindi eh non si può crescere per come vogliamo crescere solo per linee interne e cresceremo anche per linee esterne quindi a breve non vi svelo nulla ma eh faranno parte del mondo eh premia altre società che ci aiuteranno a raggiungere l'obiettivo a far crescere il nostro EBITDA e a dare sicurezza eh e concretezza alla nostra rete e al mercato. Allora a questo punto coinvolgiamo Girolamo, faccio una fotografia di com'è oggi premia, quanti collaboratori eh quante agenzie sul territorio? Allora oggi premia è distribuita su quasi tutto il territorio nazionale. La rete dei consulenti del credito è composta da circa 120 agenti e diciamo che eh ogni mese abbiamo dei nuovi ingressi quindi raccogliamo costantemente interesse da parte dei professionisti del settore che operano non solo nel mondo del quinto dello stipendio e quindi eh diciamo che molti professionisti nel mondo del credito eh anche strutture specializzate si avvicinano al mondo premia. Oltre a questi 120 consulenti del credito in Italia abbiamo quasi 60 agenzie a marchio sul territorio di cui alcune filiali di proprietà dirette fra le più importanti ovviamente è Catania, Reggio Calabria e Milano. E piano di sviluppo abbiamo parlato linee interne, cosa prevede il piano di sviluppo per sia numericamente sia per eh diciamo eh zona eh geografica? Allora l'obiettivo sicuramente è quello di eh concentrare i nostri piani di sviluppo al centro nord Italia dove ehm stiamo iniziando a crescere posizionando anche delle agenzie di proprietà vedi quella di Milano al nord, no? Dove eh in questi ultimi mesi stiamo iniziando a fare delle azioni di sviluppo eh dove eh inseriremo sicuramente delle nuove risorse e inseriremo anche dei nuovi agenti che eh lavoreranno all'interno sia della filiale stessa di Milano ma inizieremo anche un percorso di crescita eh per chi desidererà iniziare un percorso lavorativo con premia all'interno delle agenzie gestite dai nostri eh operatori, dai nostri consulenti del credito quindi siamo nelle condizioni oggi di poter dare oltre al supporto operativo a un buon pricing ritengo fra i migliori del mercato e ehm il supporto di un back office altamente qualificato anche delle postazioni operative all'interno delle nostre agenzie. Questo significa che chi si avvicina a premia finance, chi sceglie di lavorare con premia finance trova ovviamente una postazione all'interno delle nostre agenzie quindi a costo zero, trova eh tutto quello che è il nostro mondo legato ad un'operatività snella al supporto del coordinatore territoriale e quindi dal nostro team manager che sul territorio a supportare la crescita di eventuali nuovi consulenti al credito e quindi questo piano di sviluppo che sta andando abbastanza bene e che si è consolidato in altre regioni nel centro sud adesso sta iniziando a prendere piede anche al centro nord. Gaetano però eh ci ha raccontato della cessione del quinto però questo oltre a essere l'anno del passaggio in borsa è anche l'anno del ampliamento del book a prodotti. Assolutamente sì, diciamo che eh già questo percorso eh è stato intrapreso già qualche anno fa eh questo sarà l'anno che consacrerà premia anche sugli altri prodotti. Eh non sto qui a svelarvi nulla ma prima parlavamo di eh crescita per linee esterne e pensiamo proprio di crescere sui prodotti alternativi eh diciamo facendo delle acquisizioni eh che ci permetteranno di eh entrare subito diciamo nel mercato dei mutui e dei prestiti del corporate e non solo eh come attori principali. Girolamo abbiamo parlato di collaboratori, dei vantaggi che possono avere però se eh dovesse arrivare una richiesta da parte di un agente strutturato la valutate? Assolutamente sì, la valutiamo nel rispetto agli accordi commerciali con i nostri partner eh ovviamente con gli accordi che abbiamo stipulato con i nostri convenzionati però valutiamo sicuramente la possibilità di poter ehm come dire inserire all'interno di premia agenti in attività finanziaria eh che potrebbero anche essere ben strutturati magari dei coordinatori territoriali che desiderano eh scoprire quali potrebbero essere tutto quello che è oggi il mondo della mediazione creditizia e quindi la distribuzione del multiprodotto e di conseguenza assecondare anche i propri collaboratori interni facendo distribuire e collocare eh operazioni di cessione del quinto pressi personale mutui eh ovviamente eh per il tramite della nostra realizzazione e della nostra operatività. Mantenendo magari anche la loro struttura interna a livello gerarchico? Assolutamente questo è possibile valutarlo e e quindi noi già siamo pronti stiamo valutando alcuni importanti insomma ingressi in premia che ci permetteranno di aumentare il nostro business e di collocare anche eh in alcune zone territoriali dove noi siamo scoperti alcuni eh alcune strutture già eh abbastanza eh consolidate e che operano in maniera professionale in altre zone d'Italia. In conclusione Gaetano eh abbiamo parlato prima ci hai accennato di possibili acquisizioni quindi tra gli obiettivi di questi prossimi mesi c'è quello di acquisire strutture? Assolutamente sì ma diciamo che quella è la logica diciamo della borsa no? quindi non solo in questi mesi ma eh eh noi ipotizziamo di eh crescere per linee interne per tutto diciamo il proseguo della vita della della società. Abbiamo degli esempi eh degli esempi importanti in borsa, importanti in borsa e quindi un'azienda quotata in borsa deve crescere sempre e per linee interne e per linee esterne. Quindi diciamo le operazioni di acquisizione laddove chiaramente troviamo le aziende giuste e i prodotti giusti e i prodotti giusti da poter eh come dire collocare e far come dire veicolare alla nostra rete eh diciamo noi non tendenzialmente non ci fermiamo mai ecco. Quindi diciamo che l'obiettivo è ben chiaro. L'obiettivo è ben chiaro. Benissimo allora io vi ringrazio eh spero di rivederci qui tra sei mesi e vedere insomma quali sono stati i risultati raggiunti e quindi ringrazio voi per aver seguito fino alla fine questo face to face e vi do appuntamento al prossimo. Grazie. Grazie a voi. Grazie. Arrivederci.